Ok, pomodoro. Perfetto, puoi scostarti, salvo. Azione. Il pomodoro è qui. Non siamo qui per raccogliere il pomodoro, siamo qui per un sopralluogo. Dobbiamo controllare che tutto sia in regola per trasmettere l'ordine. No. Sera un po' cosa sulla bandura. Sì, ma se... Facciamo. Facciamo, per esempio... Questa che segna la moto? Allora, facciamo un po' più in lato. Un po' più in lato. Un po' più in lato, perché ho più profondità di campo. Non posso nemmeno farlo. Allora, sto cercando una via in mezzo. Capito. Va bene. Facciamo anche un po' più in lato.